Francesco Moser, già ciclista su strada e pistard italiano, vincitore di 273 corse su strada da professionista, un record ancora ineguagliato. Tra i vittori ricordiamo un Giro d'Italia, un Mondiale su strada, tre Roubaix, Frecciavallone, un record dell'ora a Città del Messico. Oggi testimonio della Mediolanum, costruttore di biciclette e produttore vinicolo. Siamo qui a Nardo di Pace per la dodicesima edizione della Pinocchio in Biciclette, organizzata allo Sporting Club Mileto di Mimmo Bulzumi e dall'Associazione Maranatà di Don Mimmo di Carlo. Siamo qui per questa occasione, abbiamo appena finito il Giro d'Italia e Mimmo mi ha fatto venire qua subito, non sono ancora rientrato a casa. Siamo qui in mezzo a questi monti che mi sembra quasi di essere a casa mia. Abbiamo visitato il parco a Serra San Bruno e adesso siamo qui. Ci sarà questa manifestazione ciclistica che è difficile oggi portare avanti il ciclismo perché con tutti i problemi della sicurezza, di tutto, è sempre più difficile anche organizzare le gare anche da noi, non solo qui. Speriamo che con questa iniziativa si riesca a sensibilizzare la popolazione, i ragazzi, perché poi alla fine bisogna che siano i ragazzi che prendono questa passione del ciclismo. Perché noi ormai quello che abbiamo fatto non possiamo più tornare indietro. Vediamo se verrà fuori qualcosa di interessante per il futuro del nostro sport. Nel 2020 Francesco Cassani mi risposa a una domanda sul ciclismo in Calabria per i giovani. Mi disse che qui non può più andare avanti perché non ci sono gare, quindi non ci sono sponsor. Concorda? No, ma per portare avanti un'attività sportiva ci vuole un calendario di manifestazioni. Gli sport di palestra fanno le gare fra un paese e l'altro. Nel ciclismo bisogna che ci siano delle gare regionali, dopo ci sono quelle nazionali, quelle internazionali e per questo ci vuole una passione diffusa nella popolazione perché avvengano queste condizioni. Altrimenti è molto difficile. Tutti quelli che hanno corso e che hanno avuto un certo successo anche qui dal sud sono tutti venuti a correre in Toscana, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto. Perché lì c'è un calendario di gare settimanale e annuale naturalmente dove si può competere con tutti, con i migliori e di conseguenza poi hai una selezione, hai un certo numero di risultati che destinano o dicono chi sono i migliori. Insomma è successo per tutti così, anche prima di noi, quando correvo io, dopo, per dire Nibali, è venuto in Toscana. Anch'io dal Trentino sono andato in Toscana a correre. Passione della popolazione ma soprattutto anche grandi organizzatori come l'è stato Mimmo Bulzomi con le sue gare qua in Calabria. Ricordiamo che Marco Pantani vinse la sua prima tappa, la sua prima corsa da dilettante a San Mangodacuino. Alla corsa del sole io ero presente perché quando ho smesso di correre Bulzomi mi invitava e sono venuto più di una volta alle gare che organizzava. Ho visto che venivano in quell'occasione tante società del nord e si faceva questa settimana del sole che era chiamata così e si facevano, sono passati anche da queste parti credo, a Serra San Bruno sicuro. E questa era un'attività che promuoveva questo sport e bisogna creare queste condizioni per poter avere un futuro. Grazie a tutti.